Tamponi gratuiti a tutti i viaggiatori, la postazione della ASL Toscana Sud-Est si trova appena fuori la stazione di Arezzo. La scelta nasce dalla consapevolezza che i viaggiatori sono una popolazione a rischio per le condizioni legate al contatto sociale e quindi in tutte queste condizioni è necessario fare un'importante azione di prevenzione. Il test rimane su base volontaria e sarà possibile effettuarlo presso alcune stazioni ferroviarie Firenze, Pisa, Arezzo, Viareggio e Grosseto e i porti principali della regione Livorno e Piombino. Gli esami verranno eseguiti dal personale della ASL in un'apposita postazione dalle 7.30 alle 22.30. Coloro che decideranno di sottoporsi al test dovranno poi rimanere presso il proprio domicilio fino alla comunicazione del risultato entro le 24-36 ore successive. Deve stare in isolamento fiduciario, quindi è sulla fiducia e questo avvenga e per almeno fino a quando non c'è l'esito del tampone stesso. Il tampone è possibile recarsi se sei residente in Toscana, è possibile sia eseguire una prenotazione su un sito online oppure recarsi all'accesso diretto sempre con il biglietto di treno se sei un viaggiatore, recarsi in questa postazione mobile e dopodiché viene eseguito il tampone. Se sei invece residente fuori dalla regione Toscana è possibile solamente l'accesso diretto direttamente in questa postazione. Grazie.